Vi siete mai chiesti chi si nascondesse sotto le maschere di mostri? Ebbene, in questa seconda puntata continueremo a scoprirlo e vi mostrerò anche alcuni consigli che mi sono stati dati. Vi ricordo anche che se avete dei consigli potete scrivermeli qui sotto nei commenti. Li prenderò tutti in considerazione. Iniziamo. Ha interpretato il giovane Jason del primo film, che lanciò l'intero franchise. Noto anche per essere un artista musicale, oltre che compositore e attore. È presente anche nel documentario His Name Was Jason, 30 anni di venerdì 13 del 2009, il quale esplora 30 anni della serie di film. Noto come controfigura in parecchi film famosi, quali Indiana Jones e Pirati dei Caraibi, ha interpretato Jason nel remake del 2009. Ha recitato anche in Dead Snow 2 e Predators. Attore famosissimo per aver interpretato il ruolo di Letterface, ovvero Faccia di Cuoio, nella saga di Non aprite quella porta. Recitò in seguito in molti altri film dell'orrore, interpretando sempre ruoli primari. Abbandonò poi la recitazione per dedicarsi alla scrittura, rinunciando così a pellicole come Le Collinano Gli Occhi e Quel Motel Vicino alla Palude. Solo più tardi, ritornò sui suoi passi. E parliamo quindi del sequel diretto al film, del 1974, dove reinterpretò Letterface nel continuo del primo film, realizzato nel 2013. Il film racconta ciò che sarebbe successo dopo il finale del primo film, naturalmente rimodernizzato ed ambientato ai giorni nostri. Pellicola abbastanza gradevole per i nostalgici del genere. Alto 196 cm è il volto di Letterface nei due remake, rispettivamente del 2003 e del 2006, fedeli in parte all'originale. Ha recitato anche nel film Batman, Il Ritorno, Scooby-Doo e Street Fighter. Aspettatevi anche un prossimo episodio, dove vi mostrerò il resto dei suggerimenti che mi sono stati dati. Viral, chiudo.